Siccome il mondo si sta trasformando e le professioni si stanno trasformando, questo pomeriggio, e chi di voi vorrà continuare, servirà anche a sviluppare le vostre capacità per affrontare quelle che sarà la scuola e il mondo del lavoro che verrà. La nostra cultura non è pronta a gestire il flusso di informazioni, di stimoli, che ci arrivano quotidianamente. Non siamo pronti noi adulti, tantomeno sono pronti i bambini. Sviluppare le abilità creative, matematiche, non solo sottrae i ragazzi dal buco nero della diction digitale, a quello che sarà comunque il mondo del domani. Quindi si tratta semplicemente di prepararli a quello che verrà e conviene iniziare subito. Ragazzi, le invenzioni non avvengono per caso. C'è sempre un brodo di cultura in cui avviene un'invenzione. Quindi io non ho inventato niente, sono il prodotto del mio paese. Volevo stampare una forma impossibile, che fosse impossibile da realizzare con le tecniche tradizionali, che fosse un tributo alle forme organiche, alla bellezza. E questo è il primo edificio stampato in 3D al mondo, qua in Italia. Ciao ragazzi, io mi chiamo Dario e oggi pomeriggio faremo qualcosa di particolare. Useremo la geometria, la matematica per divertirsi, per poter disegnare degli oggetti che grazie alla tecnologia attuale possono essere stampati. Allora, per voi che cosa potrebbe essere la cosa più divertente? Disegnare dei giocattoli e stamparli. E quindi abbiamo portato qui degli esempi di quello che si può fare con il disegno digitale e con una stampante 3D. Si può realizzare qualsiasi idea astratta che avete in testa, oppure copiare qualcosa che avete visto, disegnarla voi, modificarla, renderla come voi la volete, quindi comunque dargli dei colori, delle forme particolari, e con una stampante 3D quest'idea può diventare realtà. Quindi si passa dal mondo dell'idea, dal digitale, quindi dal mondo del virtuale, su uno schermo di un computer, di un telefonino, si passa di nuovo al mondo della realtà fisica, al cosiddetto mondo analogico. Noi qui abbiamo realizzato alcuni giocattoli che sono più che altro per bambini molto piccoli, che servono comunque a stimolare le percezioni sensoriali quando si ha dai 0 ai 3 anni, quando comunque il cervello del bambino è in fase di sviluppo. Poi ci sono comunque dei giocattoli come le trottole che possono essere utilizzate da più grandicelli e queste forme sono basate su quelle che sono le forme della nostra cultura europea, la cultura classica, perché queste sono forme che derivano dall'antica Grecia, da Platone, fino a Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, che sono degli artisti, degli scienziati di molto molto tempo fa, le cui forme però sono particolarmente armoniche. A che cosa serve questo oltre a divertirsi? Siccome il mondo si sta trasformando e le professioni si stanno trasformando, questo pomeriggio, e chi di voi vorrà continuare, servirà anche a sviluppare le vostre capacità per affrontare quelle che sarà la scuola e il mondo del lavoro che verrà. La tecnologia sta andando avanti, molti lavori manuali verranno comunque cancellati dall'automazione, dai robot e dall'intelligenza artificiale, e chi invece avrà delle capacità matematiche, artistiche e creative, oltre a divertirsi particolarmente, potrà comunque trovare lavoro facilmente. Però è importante che determinate qualità, determinate capacità, vengano sviluppate dalla vostra età. In me ne dalle che quando voi sarete grandi, vi troverete comunque molto molto avanti. Il mondo è diventato molto difficile, ci sta la Cina, c'è l'India, gli Stati Uniti, gli altri paesi europei. In alcuni paesi, come la Cina e l'India, alla vostra età, già certe cose vengono insegnate a scuola. Noi in Italia siamo un pochino indietro, ma abbiamo una grandissima, diciamo, asso nella manica, che è la grande creatività, la grande tradizione artistica e creativa degli italiani, che è ancora insuperata. E noi dobbiamo continuare a mantenere questo, diciamo, questo primato. Vi faccio un esempio. Ci sono dei tipi di matematica, che in realtà sono state sviluppate nel medioevo, ma poi sono andate avanti, che servono a disegnare il mondo dei videogiochi. Cioè, tutto voi che vedete realizzato magari in un videogioco ad alta definizione, con gli alberi, i paesaggi, le nuvole e quant'altro, deriva da equazioni, da disegni digitali, molto simili a quelli che imparerete oggi, chiaramente molto più complicati. In oggi parteremo dalle basi, nel disegnare un cubo, una piramide, un parallelepipedo, o comunque qualcosa di più complicato. Tutte queste forme, combinandosi insieme e con delle regole matematiche, possono comunque andare poi a riprodurre quella che è la forma di un albero, quella che è la forma di una montagna, di un fiore o di un albero. Allora, qui abbiamo una persona molto particolare, un italiano, che è Enrico Dini, tanto per raccontarvi che cosa significa la matematica, la creatività applicata poi alla stampa 3D. lui è il primo italiano che ha costruito una stampante 3D molto grande per disegnare le case, ma non per disegnare le case magari squadrate con i rettangolini come quelle che vediamo in giro, per poter disegnare le case anche basandosi su forme complesse che solamente una stampante 3D può realizzare. Ragazzi, le invenzioni non avvengono per caso, c'è sempre un brodo di cultura, in cui avviene un'invenzione. Quindi io non ho inventato niente, sono il prodotto del mio paese. Io sono nato a Ponte d'Era, un posto che non vi dice niente, ma se vi dico Vespa, vi dice qualche cosa? Il mio padrino era l'inventore della Vespa, il quale da bambino faceva tanti giochini e soprattutto ci faceva capire che bisogna guardare lontano. Lontano, guardare verso l'alto per colpire in basso. E quindi 50 anni dopo, sarebbe troppo lungo dire, ma c'è un bel giorno in cui io sono arrivato con questo camion pieno di americane. Le americane sono queste putrelle che servono a organizzare i palchi da concerti. e mi sono montato la mia stampante gigante su un campo che si trova a Follonica. A Follonica c'è un campo dove abbiamo montato la mia stampante che assomiglia a questa, ma ha un principio di funzionamento diverso. E io volevo stamparmi una casa in 3D. E la forma della casa non era una forma delle case normali. Io volevo fare qualche cosa di speciale. E la cosa che volevo stampare in 3D era questa specie di uovo tutto sforacchiato. Che cos'è secondo voi? Niente. Un niente. Un niente stampato in 3D. È una cosa strana, una forma impossibile. Ecco, volevo stampare una forma impossibile che fosse impossibile da realizzare con le tecniche tradizionali che fosse un tributo. ha le forme organiche, ha la bellezza. Dietro questa forma, sarebbe troppo lungo dire perché ho pochi minuti, e poi passo la parola a un altro ragazzo che è un millennial nativo digitale come voi, c'era il tempietto del Bramante che si trova sulla collina del Gianicolo. il tempietto del Bramante. Non ha potuto realizzare questo oggetto così grande, però l'ho potuto realizzare più in piccolo. Questo è il primo edificio stampato in 3D al mondo, qua in Italia. E tutto questo è avvenuto non per caso, ma per grazie a Corradino d'Ascanio, inventore della Vespa, o anche dell'elicottero. Se andate qui a Ciampino, a Roma, troverete una grande stele che è dedicata a Corradino d'Ascanio, sul fronte, sul tergo, come un disco 45 giri, c'è un tributo a Leonardo da Vinci. Perché pochi sanno che qui a Roma ha volato il primo elicottero al mondo. Grazie. Passo la parola all'ingegnere Carboni. L'ingegnere Carboni, un millennial, nativo digitale, 110 lode, alla facoltà di ingegneria di Pisa, laureato con sei mesi di anticipo sul corso, ha fatto una tesi sul mio progetto che si chiama The Shape. È un matematico e siccome l'argomento del giorno è quello della divina proporzione di Fibonacci, ho chiesto a Paolo di realizzare fra ieri mattina alle 9 e alle 10 un algoritmo che sviluppasse la sequenza di Fibonacci utilizzando un software che spero che voi bambini un giorno quando qualcuno diventerà un architetto ci potrà giocare, che è una cosa che io che sono un dinosauro oltre a 50enne, francamente mi domando che cosa alberghi nella testa di questa creapa qua. E adesso mi zittisco. Come vedete, molte forme in natura ripercorrono questa spirale qua che viene chiamata spirale di Fibonacci. A partire dal grande, questa è la galassia. Se ci fate caso, io ci disegno sopra la spirale e la galassia riprende esattamente quella forma lì. Allo stesso modo, le nuvole si compongono sempre a formare la solita geometria, scendendo sempre più in piccolo le uova, le conchiglie, andando ancora più nel profondo i fiori, i petali. Tutta questa cosa è stata scoperta, non voglio dire per caso, perché niente succede a caso, però è collegata ad una piccola vicenda che vi voglio raccontare. intanto è stata inventata da Leonardo Fibonacci, un matematico pisano, che davanti a un problema che gli era stato proposto da Federico II di Svevia, un imperatore, risolve il problema brillantemente. Ora, cosa c'entrano tutti questi numeri, conigli, con la forma che abbiamo visto? Vi faccio vedere. Si passa al problema della sezione aurea, che altro non è quella geometria che voi avete visto. Praticamente, se io disegno un cubetto con un pezzo di circonferenza, quest'arco di cerchio, di raggio pari al lato del quadrato, e lo ripeto tante volte, cosa vuol dire? Disegno il primo quadrato, poi disegno un secondo quadrato accanto al primo, ruotato di 90 gradi, e ce lo attacco. Poi disegno un terzo quadrato, che questa volta, ora c'ho 1 più 1, ricordate i coniglietti di prima, i numeri sono 1 e 1, quindi ora devo ottenere 2, in qualche modo. Quindi, il mio terzo quadrato avrà un lato pari a 2. Quindi, io disegno questo terzo quadrato, lo ruoto di 90 gradi, e lo disegno accanto agli altri, di lato 2. Se io ripeto questa operazione tante volte, cioè mi riprendo il quadrato, lo copio, lo ruoto di 90 gradi, lo metto accanto a quegli altri, lo faccio diventare, guardate, questa era grande 2, più 1. Ecco perché il precedente, diventa lato 3. Poi lo copio ancora, lo ruoto, ed ecco che già iniziate a vedere la spirale che prende forma. Ora io questa operazione la sto facendo a mano su PowerPoint, voi tutti conoscete PowerPoint. Esistono dei programmi, come per esempio Grasshopper, quello che accennava prima Enrico, dove noi possiamo dare delle piccole istruzioni abbastanza semplici, come questa, prendo un quadrato, lo sposto a destra, lo giro di 90 gradi, gli cambio il lato secondo la sequenza di Fibonacci, ovvero che ogni numero è somma dei primi due precedenti, e lui mi disegna in automatico questa spirale. Questo è il programma, questo è come appare il programma, cioè io gli devo dire di fare quella cosa lì, e gliela dico con una serie di passaggi logici, non vi sto a spiegare ora, però quando io do il via al programma, gli dico, vedete qua ho scritto numero di cicli, se io gli dico fammelo 5 volte, lui prende e fa 5 volte il passaggio, 1, 1, 2, 3, 5, 8, Allo stesso modo, se io dico 40, ora esagero, lui lo fa 40 volte, e come vedete zoom all'indietro, e ottengo la geometria ripetuta 40 volte. Questo era quello che volevo fare. Allora, questa iniziativa è nata da una preoccupazione che io già avevo ancora prima di diventare papà, e dopo mi è aumentata, cioè su a Bruxelles, arrivano informazioni comunque in qualche maniera privilegiate, non perché siano nascoste, perché stai là e quindi vedi in quale direzione sta andando la società, la tecnologia. Allora, noi già oggi viviamo immersi in input continui, grandi e piccoli, telefonini, televisioni, videogiochi, siti, chat, eccetera, eccetera. Il futuro sarà ancora di più, quindi ci saranno comunque le connessioni ubiquitarie e la nostra cultura non è pronta a gestire il flusso di informazioni, di stimoli che ci arrivano quotidianamente. Non siamo pronti noi adulti, tantomeno sono pronti i bambini, che è vero che loro sono divi digitali e sanno utilizzare il computer e spesso meglio di noi, però la gestione, la selezione delle informazioni e capire quale attività comunque possono essere utili, altre che invece sono delle perdite di tempo, comunque non fa parte dell'obbligo del bambino e questo, siccome le professioni, il mondo del lavoro con l'automazione di intelligenza artificiale, moltissime professioni scompariranno, soprattutto quelle automatizzate, ma anche alcune professioni diciamo più intellettuali come può essere quella del medico, dell'avvocato, saranno automatizzate. Già oggi il Servizio Nazionale Inglese è iniziato un servizio di sperimentazione che si appoggia a un'azienda privata per il servizio sanitario pubblico per la diagnosi e il rapporto per il paziente dove c'è una videochiamata e il dottore è supportato dall'intelligenza artificiale per andare a identificare un video testo come? quando sono preva sono le stesse persone qualcosa di più ma è già realtà cioè nel senso che questa è una cosa ci sono le pubblicità per la metropolitana di Londra da qualche settimana e quindi il mondo del lavoro sarà completamente trasformato chiaramente il sistema Italia ed Europa non può competere con la potenza industriale della Cina degli Stati Uniti e dell'India per quanto riguarda la produzione di beni di massa o per l'intelligenza artificiale e l'informatica noi in Europa e soprattutto in Italia abbiamo comunque dei residui di intelligenza artistica e creativa che saranno le funzioni umane che più difficilmente verranno soppiantate in intelligenza artificiale o non verranno soppiantate in un futuro proprio immediato quindi sviluppare le abilità creative matematiche non solo sottrae diciamo i ragazzi dal buco nero dell'addiction digitale chat videogiochi sparatutto eccetera ma in qualche maniera comincia a plasmare le loro menti a quello che sarà comunque il mondo del domani quindi si tratta semplicemente di prepararli a quello che verrà e conviene iniziare subito perché comunque il loro cervello si sviluppa già pensando in 3D immaginate noi quando comunque avevamo la loro età cioè già immaginarsi un cubo in testa oggi lo possiamo disegnare manipolare addirittura stamparlo e toccarlo eccolo là che cosa facciamo noi? noi stampiamo oggetti tridimensionali che cosa vuol dire? che noi diamo forma a oggetti del genere ok? allora che cosa vuol dire stampare in 3D? ci arriviamo piano piano non vi spaventate allora voi sapete come sono fatti gli oggetti che avete a casa in plastica? quindi immaginate la parte in plastica di un accendino di una padella di un lego di un giocattolo come viene fabbricato? viene realizzato nelle fabbriche ok? tutti gli oggetti in plastica generalmente vengono realizzati nelle fabbriche però c'è anche un altro metodo per realizzare gli oggetti ovvero realizzarli in casa come si fanno a realizzare oggetti in casa? qui c'è un piccolo esempio se io voglio realizzare immaginate un salvadanaio rosa cosa faccio? lo posso progettare quindi disegnare in tre dimensioni quello che vedremo oggi quindi guardate io posso cambiare le forme ho cambiato il naso posso dare il colore posso fare varie operazioni al mio salvadanaio poi cosa viene fatto? viene fatto un procedimento che vedremo ovvero viene diviso in strati e guardate cosa accade una stamane 3D andrà a realizzare strato per strato il mio oggetto ok? che è proprio quello che state vedendo ora dalla stamane 3D quindi la stamane cosa fa? fonde un filamento immaginate un po' un po' il gel quando voi lavate i denti e spruzzate il gel il gel potenzialmente sia il gel che il dentifrice potete spruzzarlo e disegnare in 3D non lo fate domani mattina non lo fate domani mattina mi raccomando non lo fate domani mattina ora l'avete creata su carta e l'avete creata con della plastica ora andiamo a realizzare con una plastica biodegradabile con la stamane 3D per fare questo dobbiamo realizzarla sul computer col software che si chiama TinkerCard che è quello che avete voi aperto sul vostro computer sia i ragazzi che i genitori se hanno bisogno comunque di supporto tecnico o comunque delle apparecchiature che abbiamo qui e magari non stanno in tutte le case degli italiani per il momento cioè questo posto è comunque a disposizione basta comunque telefonarci mandarci una mail e o io o qualcuno di noi ci sarà ad assistere loro se hanno comunque bisogno di andare avanti o se non avete la stampante e vogliono stampare un oggetto o ci spiegate il file o venite qui e lo facciamo insieme ok ah questi sono per per i bambini ma anche per gli adulti a tutti Grazie a tutti.